Certo, che è una cosa strana. Alle magnerie del Valadie hanno speso 6 milioni e 3 e ci pioveva dentro. Qui, al parcheggio di Via Gonsalvi, sinceramente non saprei dirvi quanto è stato speso. E però, ci piove dentro pure qua. Ma io non lo so. Ma è possibile che tutte queste opere che a tuo parte, ce ne fosse una che è stata fatta bene? Ma! Ma!